E poi insomma sappiamo tutti come è finita per alcune decisioni arbitrarie avverse praticamente passò la Sampdoria a mio parere in Serie A. Oggi il Padua chiude questo campionato a quota 53 con una sconfitta però disputando a mio parere una buona partita. Lei di che parere ha? Sì, penso che la mia squadra anche oggi abbia fatto un'ottima partita ma lo spirito di squadra è quello che è prevalso in tutto questo finale di stagione. Noi la salvezza l'hanno raggiunta qualche settimana fa e nonostante tutta la squadra comunque è riuscita sempre a conferire delle buone prestazioni. Peccato per la sconfitta di oggi perché ci tenevamo a chiudere con un risultato positivo e soprattutto portare a rotto i risultati utili consoluti. Noi oggi abbiamo visto un buon Padua e riteniamo che la compagina bianco scudata praticamente dovesse entrare nei play-off. Quali le motivazioni di questo mancato obiettivo? C'è di mezzo anche il suo allontanamento con l'intermezzo di Colomba o anche dell'altro? No, questo io non lo so. Io penso aver vissuto una stagione positiva a Padua perché sono stato bene sia con la squadra e soprattutto anche con la città. Io penso che siamo partiti per una salvezza tranquilla. Il giorno del mio esono avevamo sesto in classifica quindi vuol dire che la squadra era in alto. Poi dopo quando sono tornato avevamo qualche piccolo problema e grazie alla disponibilità dei giocatori, di tutto lo staff che si è messo a disposizione siamo riusciti con grande personalità soprattutto da parte dei miei giocatori ad uscire a testa alta da una situazione che si è complicata. Facendo praticamente un'analisi di questo campionato, come ha visto praticamente, è visto che praticamente siete arrivate sia il Padua che la Ternara in una zona di tranquillità anche se la sua squadra è arrivata prima. Ma come vede questa zona di tranquillità? Che impressioni può così di fornire? Tanto che quest'anno il campionato di Sevista è un campionato molto avvicente perché ad oggi, che è l'ultima giornata, si decidereanno i miei avventi sia per la promozione diretta, per i pre-off, per i pre-out e per la retrocessione. Quindi un campionato molto equilibrato. Se a noi che la Ternara siamo stati sufficientemente bravi forse a chiudere prima i conti, quindi a giocare queste ultime partite con molta serenità e con grande tranquillità e quindi mi attiva ancora una partita come quella di oggi. Secondo me è anche abbastanza spettacolare, la spettacolare che si è diventata.